sì allora leggo perché non voglio perdere il filo e neanche fare un video troppo lungo se no poi non si arriva in fondo allora mi scrivete per avere idee su come uscire da questa situazione di merda e lo so che di primo acchito si vorrebbe scappare da una realtà così perché è orribile anch'io ho pensato di lasciare l'Italia ma prima di andarsene ci sono un paio di cose da fare e soprattutto c'è da mettere in conto che siamo marchiati come un tori quindi all'estero non siamo graditi se arriviamo adesso e significa anche incontrare quasi la stessa situazione che c'è in Italia ci sono diversi paesi che non hanno vietato di uscire di casa però non è detto che non lo facciano in un prossimo futuro quindi in questi due mesi di chiusura in casa abbiamo anche perso tempo perdendo energie per litigare con l'account Facebook o il vicino di casa invece mi sono resa conto che una buona percentuale di italiani ha mantenuto il suo posto di lavoro o non è da solo in casa e quindi per loro la prigionia ha un peso diverso anzi forse stanno anche meglio perché sono in casa non si spostano per lavorare, non costi in meno quindi la prendono un po' come una vacanza quindi hanno una situazione economica agiata e se lo possono permettere poi mi sono reso conto che c'è una percentuale di italiani che sta guadagnando da questa situazione per l'incremento di alcuni settori e la creazione di tutta una campagna mediatica poi c'è tutta una fetta di italiani che già vivevano così da anni perché si erano isolati socialmente ed uscivano da casa solo per fare la spesa o per motivi essenziali e allora la vita non è cambiata molto e poi ovviamente ci sono i sostenitori del governo senza se e senza ma quindi chi porta le persone che fanno un ragionamento diverso da quello che gli viene propinato siamo noi ma siamo una minoranza della minoranza a tutti gli altri gli è bastato spaventarli con l'idea della morte per far accettare di rinunciare alla vita quindi consapevoli di questo che siamo una minoranza della minoranza come cazzo ne usciamo per uscire da un golpe così ci vuole una strategia e in Italia la strategia manca dal dopoguerra quindi sembra quasi impossibile uscirne come al solito si sta qui ad aspettare un leader o qualcuno che venga a salvarci oppure che ci uniamo che non accadrà mai almeno io non ci spero anche se questa volta basterebbe davvero poco perché non serve neanche sparare basterebbe riaprire le attività ed uscire tutti normalmente e sarebbero fottuti sarebbe il vero golpe ma non accadrà è incommiabile chi è sceso in strada a protestare ma così come in Palestina ci sono due strade dell'attivismo una è quella distruttiva l'altra è quella costruttiva protestare è sulla strada distruttiva e può essere tirando un sasso scrivendo un articolo facendo un film o teatro quella costruttiva è ad esempio creare una realtà di vita diversa da quella propinata per fare un esempio gli zapatisti anche se gli zapatisti sono sia costruttivi che distruttivi la strada distruttiva quindi che ho fatto anch'io per anni a lungo andare distrugge anche chi la opera lo sappiamo come denunce, persecuzioni, galera insomma tante modalità io mi ricordo meno di un anno fa quando l'Iran e il Libano sono stati sotto attacco dagli Stati Uniti il leader di Hezbollah Nasrallah ha parlato della terza guerra mondiale e disse la terza guerra mondiale non è con le bombe ma è una guerra di ideologie ecco siccome appunto io non sono per i leader vi dirò cosa farò io se poi a qualcuno piace piacciono queste idee o parte delle idee e vuole abbracciarle io ci sono ci sarà chi dirà eh sì ma scusa cosa ce lo dice a fare fallo e basta sì ma il problema non è che in discussione è la mia libertà è la libertà di tutti quindi io posso anche camminare per strada libera ma se gli altri sono in prigione che senso ha quindi ecco che cosa farò farò esattamente l'opposto di ciò che vogliono non mi farò più isolare in futuro come? avevo già scritto che toccava ridisegnarsi il futuro forse inventandosi un nuovo lavoro mettere in conto lo spirito di adattamento e soprattutto di avere per il futuro un pezzetto di terra da coltivare per evitare il problema cibo quindi ho pensato a una casa condivisa o a un villaggio a seconda del numero di persone che vi partecipano con un po' di terreno dividendo i costi quindi si ridemissionano i costi pur avendo il proprio spazio vitale ma condividendo parti della nostra vita e magari anche produrre qualcosa per la nostra vita in questo modo non saremo più isolati non saremo più impreparati come questa volta l'altra cosa che farò è lasciare i social non voglio più stare a loro disposizione star lì a scrivere e mostrargli il fianco bisogna trincerarsi via dai social o si postano sui propri bacheche gattini foto di Brad Pitt torte queste robe qua poi faccio seguire la diffida che avevo fatto a Conte l'istituto superiore della sanità e la protezione civile una denuncia li denuncio per aver violato la libertà la dignità e i diritti degli italiani quale il diritto al movimento al lavoro e al fabbisogno personale fisico e mentale li denuncio per aver sequestrato un'intera popolazione ed aver inflitto torture psicologiche oltre a conseguenze sulla salute fisica l'altra cosa che farò è che uscirò fottendomi dei decreti e dell'arroganza delle divise non ci starò neanche discutere cambierò sempre percorso orari li aggiro perché è inutile avere lo scontro sarebbe una a darmi impari quindi non vi le scontrassi e quando sarò in giro lascerò messaggi ermetici tipo è un golpe non un virus o cose simili cambierò il mio modo di spendere i soldi ovvero cercherò di non spendere siamo poveri o rischiamo di diventarlo ok si va tutti alla caritas a mangiare così li mettiamo davanti al popolo che deve mangiare e poi cercherò di riprendere il mio fabbisogno mentale che mi hanno tolto quindi incontrerò chi posso e poi scopo anche ma soprattutto alla base di fare l'opposto di ciò che ci impongono c'è questo ci vogliono robot non pensanti meri esecutori tutti in fila come per il vaiolo ecco io no io scelgo la bellezza e scelgo di essere quello che ho scritto in questo video rimangono e quindi prima di andare all'estero con il marchio di un torio e farci prendere a calci in faccia lottiamo tanto non abbiamo nulla da perdere e se va male al massimo saremo rifugiati in un altro paese poi oltretutto scusate ma lasciare la vita che avevamo magari ci dispiace no gli affetti ci dispiace perderci Firenze Bologna Milano Roma il mare del sud i fiumi delle colline le mangiate con gli amici il teatro io dopo aver passato buona parte della mia vita all'estero avevo scelto di stare qua a Bologna ho trovato una casa ho comprato dei mobili e avere degli affetti e qui mi rivolgo soprattutto alle generazioni dei generazioni fra i 35 e i 55 anni ovvero alla mia fascia d'età è vero che i bambini stanno pagando il prezzo più alto il prezzo alto ma chi paga il prezzo più alto è questa fascia d'età perché i bambini hanno la capacità di dimenticare sono piccoli ma soprattutto hanno tutta la vita davanti noi invece stiamo pensando a come vivere l'ultima parte della nostra vita innamorarsi per l'ultima volta realizzare un ultimo progetto ecco il nostro tempo gli anni che abbiamo è oro non abbiamo più tutta la vita davanti abbiamo pochi decenni non possiamo permettergli di prendersi il tempo che ci è rimasto che ripeto è oro sarò disponibile con chi vuole partecipare alla realizzazione di una casa o un villaggio condiviso ma solo con chi conosco direttamente nella vita o ho conosciuto via mail o telefono ovviamente mi spiace per tutti quelli che mi seguono ma la difesa in questo momento è d'obbligo mantenere le distanze è una sicurezza sempre e non solo per il contagio ma per la difesa personale possiamo ancora farcela ma non possiamo commettere errori o star seduti sul divano ad aspettare essere e non diamo la vita per la paura della morte grazie a tutti